salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi un video un po diverso vi porto sul canale un volo chiamiamolo così freestyle di slalom in un parco giochi con il piccolo bettec pv 85 x 4k un drone che avevo già portato sul canale qualche settimana fa l'ho recensito un drone che secondo me ha caratteristiche spettacolari sia dal punto di vista del volo ovviamente che della fotocamera oggi l'ho portato qua in questo parco giochi vediamo come si comporta il drone qua attraverso le altalene gli scivoli i dondoli vediamo si comporta nello slalom di questi ostacoli quindi ragazzi non perdiamo altro tempo e divertiamoci qua al parco giochi con il piccolo betta fpv 85 x 4k face to face i found my pain beneath the lies and broken dreams lost the love i had in me it told me apart fade away i felt so lost but i held under what i had for what it's worth that you're feeling low just know that you can yes you can there's life in love that you hold rise above and let it glow just know that it's never too late to make a change crash and burn i found myself beneath the emptiness want it more i let it go holding on to love breaking through i feel the light the ones in my life i'ma live by the ones who be all i can let the rest just crash and burn 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 oh 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 let it crash and burn this one for the person who feels alone this one for the hero who has no home This one for the one who live for hope Changing better days Pick your head up Keep on fighting Let the rest just crashing back Make your mind up If you want it Let the rest just crashing back Ok ragazzi Il volo qui al parco giochi è finito E' stato divertentissimo Anche perchè essendo un parco giochi non ci si può che divertire Il Betta FPV 85X 4K Tanta roba Avete visto che passa veramente dappertutto Ho dato un sacco di botte a destra e a sinistra Un sacco di legnate ovviamente Perchè comunque ho tentato di passare in posti abbastanza distretti Ma alla fine secondo me è venuto fuori Un'esperienza veramente divertente Quindi ragazzi Se questo video in cui vi portate sul canale Questo volo al parco giochi Con l'FPV 85X 4K Per vi è piaciuto Lasciate un grosso pollice su Iscrivetevi al canale Terriamo offerte se lo avete ancora fatto E se vi va E ovviamente ragazzi Iscrivetevi al canale YouTube Per non perdervi neanche un video Un volo, una recensione, un test, un tutorial Una novità Ciao Ciao